Il progetto è stato realizzato dai dipartimenti dell'Università di Torino con il contributo della Compagnia di San Paolo. Gli insegnamenti riguardano discipline dei primi anni accademici di quasi tutti i corsi di studio dell'Ateneo e sono pensati appositamente per chi deve avvicinarsi agli studi universitari. Iscriversi è semplice e veloce. Visita il sito www.unito.it. Scegli i corsi più vicini ai tuoi interessi, accedi in un clic con le tue credenziali social e dai subito inizio al tuo nuovo percorso di studi. Troverai tanti contenuti multimediali da esplorare con il ritmo che preferisci e potrai metterti alla prova con i test di autovalutazione. Terminato il percorso e superato il test finale, otterrai un certificato di frequenza del tuo primo corso universitario e potrai sostenere l'esame non appena immatricolato. Startet Unito ti fa iniziare l'università con il piede giusto. Non solo ti aiuta a orientarti nella scelta del percorso di studi più adatto a te, ma ti permette di ottenere già a inizio carriera un esame universitario superato. Scopri di più all'indirizzo www.unito.it. Slash start Scopri di più all'indirizzo www.unito.it.it Scopri di più all'indirizzo www.unito.it.it Scopri di più all'indirizzo www.unito.it.it